ok signori un bel ritrovati oggi è giovedì quindi andiamo subito a vedere gli sconti senza perderci in chiacchiere abbiamo la dominator asp come nuova macchina disponibile 1.750.000 dollari se la comprate pulita subito senza sconti 1.331.250 dollari se avete gli sconti vi ricordo che gli sconti sono vengono ottenuti ogni 5 livelli di reputazione e se non mi sbaglio sono casuali ok anche per le nuove macchine quindi sufficiente ogni 5 livelli di reputazione state fk fate quello che volete ma così si sbloccano gli sconti la macchina trofeo di cui potete trovare il video sul mio canale game grind vi metto sotto eventualmente il link del video ok è la zr350 la bella macchina da vincere si vince completando 5 gare in seguimento arrivando quarti va bene tra i primi 4 dopodiché abbiamo la macchina del podio che è la seminal frontier ok forse è quella che interessa di meno ormai alla gente poi abbiamo le nuove macchine di prova che sono la rt3000 la dominator appunto asp e la vectre per quanto riguarda i soldi abbiamo soldi tripli sulle lotte tra business ok che non so a quanta gente interessi soldi per due sulle gare clandestine e le survival per concludere abbiamo il 50 per cento di sconto sugli uffici del ceo molto bene 40 per cento sulla elli sulla ita di gto e il 30 per cento di sconto su alconos tigon e squaddi allora come far soldi questa settimana bene innanzitutto approfittate del ceo 50 per cento di sconto è sempre bello anche perché il garage ceo non è in sconto però almeno se avete l'ufficio potete prendere anche il garage perché vi stresso sta cosa del garage perché tra macchine del podio e macchine trofeo qua si vincono macchine ogni settimana praticamente quindi servono garage servono veramente garage per forza non si può non si può fare altrimenti poi con l'ufficio ceo potete appunto creare il ceo farvi mandare i vari veicoli durante le missioni eccetera 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 quindi è sempre bello da avere anche se magari non prendete l'import export o non prendete il magazzino delle casse l'ufficio ceo va avuto al 50 per cento se non mi sbaglio ve ne portate a casa quello della meds bank a 500 mila dollari insomma sono sono noccioline ok tra le cose in sconto del resto se siete forse l'alcolos ci sta qualcuno di voi sarà un appassionato ma per il resto niente di niente di incredibile cosa possiamo approfittare beh le gare le gare bonus per due niente male perché ci pagano in reputazione quindi non solo facciamo reputazione ma facciamo anche soldoni che non è male mi raccomando con la macchina del trofeo vi rimando al mio video di game run per capire come come vince la facilmente e nada questo è insomma alla fine come far soldi è sempre al solito modo potete continuare caio perico come vi dico da ormai otto mesi oppure potete usare la nuova via che è un po più lunga ma un po più divertente e un po più sicura dello stare con l'auto officina vendere le macchine rubare le macchine da importazione che sono sulla bacheca piuttosto che fare i vari colpi che sono sempre divertenti vi mettete lì con degli amici o anche soli va bene vi mettete lì vi fate i vostri soldini ve l'ho detto ogni sei colpi vi fate circa un milioncino di dollari non è male non è veramente male sei colpi secondo me in un'oretta un milione all'ora con calma facendo colpi facendo cose divertenti piuttosto che continuare a fare prep caio prep caio prep caio insomma al solito fino a dicembre questi saranno i due modi alternativi e io vi consiglio di gran lunga l'auto officina che è molto più divertente e quindi nada direi che per oggi abbiamo finito noi ci vediamo come al solito in live sulla piattaforma viola mi trovate anche sul mio canale game grind c'è poi il sito tutto sotto in descrizione c'è il discord e non ho più niente da spammarvi quindi vi saluto un abbraccio e alla prossima 3 2 1 aloha Allora